Ogni venerdì notte e sabato notte in sto piazzale qua diventa un disastro, il bronze completo e ci troviamo dei danni alla baracca, al chiosco e basta, basta, siamo stufi. Si sta avvicinando la bella stagione. Una persona che possede un'attività non vede l'ora di accogliere ancora più clienti e la prima sorpresa che si ritrova sono le tende tagliate e vandalizzate da qualche scalmanato facinoroso. La vittima in questione è il chioschetto del Pedocin, luogo quanto mai frequentatissimo al sorgere dei primi soli che annunciano l'estate imminente. Qualcuno nottetempo si è divertito a danneggiare con un taglierino il tendaggio dello stand, incurante perfino delle telecamere che ovviamente hanno ripreso tutto. L'appello di Dario è chiaro, che rimedino subito, altrimenti lunedì sarà costretto a esporre denuncia. Ma sì, l'ho anche visto che stava tagliando, per cui non ha nessun senso. Lunedì porto i filmati in polizia, spero che venga prima.